non male non male questo ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video insieme a mia sorella ciao a tutti purtroppo no vabbè sono reduce da un video che ha voluto fare lei se l'avete ancora visto andatela a vedere che l'abbiamo fatto per i 3000 iscritti e veramente è successo un delirio avevo una faccia che era metà metà Goku metà un paghiaccio un po' tutto però detto questo detto questo oggi volevo fare la reazione a dei tiktok hot ok si chiama che non riesco niente di male se no bolino giallo sul video no però questo volevo farlo perché dato che ho aperto tiktok dove non farà le solite cavolate dove quelli metterò le clip di divertenti di video di live queste cose qua magari anche qualcosa che faccio durante il giorno ma di divertente non di balletti così ok ci saranno anche gli scherzi su tiktok e quindi ho deciso perché non fare un video su tiktok dei video più hot data che avevo già fatto i tiktok su fortnite si più divertenti quelli più divertenti che se dato che vi è piaciuto lo riporteremo state tranquilli si però oggi volevo fare questo quindi secondo me io direi però prima di iniziare la musica dei tiktok più hot diciamo che tipo sono un po' sporcaggio non so neanche che cazzo di musica non lo sai passiamo subito ragazzi a vedere un po' ok ragazzi partiamo subito ho trovato questo video quindi ci andiamo a vedere questo di video vediamo un po' che che cosa ci serve questa bellezza te che so dici? ok posso partiamo no vorrei dire una cosa bella vediamo ok però non è volgare tutto sento uguale va bene siamo solamente rossi ecco già questo è un po' più volgare rispetto a quella di prima eh no 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 questo è come ammazzare il piano ma copriti ha fatto finta di tirare giù non è volgare il piano non è volgare le mamma con questo non è volgare le anche le senza non è volgare le non è volgare le Cos'è una po' di strada? Questo è un calcone! Vediamo lei, vediamo lei, mi dice bene! Non ho niente, ma non ho niente! Ma avevano il mutano! Non lo so, eh! Cos'è stata? E' uno! Ma perché chi c'è? Chi c'è? Vabbè! Ma non ha fatto vedere il culo! Vabbè! Vabbè, vanno! Vabbè! Ah, già lei è un po' più! Già un po' più! Un po' più cosa! Vabbè! Vabbè! Ah, però questo è bravo! Non è neanche una brutta ragazza! Vabbè! Mi metto qua sotto il numero! Cosa è sta roba? Cosa è sta roba? però comunque da vedere che fanno stick tocker ma non hanno niente ora fai sempre bravo né mano no 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 va bene Non male Poi metto pure io a ballare così Non male questo Ma tu che così Ah questo non male Ma mi sa bene poi il caffè di bianco Ma va che forno è il caffè di bianco Ma che cazzo Ok C'è la dita la sorella che sta dicendo Ma questo non è un buon ragazzo Se vuole facciamo tutti insieme Comunque sono americano Sono americano Eh vabbè Per fare non è il problema distante Ma mi sa che piccoli Ma non è male Si male un po' Questa è una idea Questa è una idea Ah questa si Questa è un po' Ma son i fiori Ok Ok Eeeeeee Ma questo è il tempo del musical, eh? Eeeeeee Non si muove male, però non ha... No, no, non è brava lei Non ha le ufficine Non vuol dire che non ha le ufficine Per parcheggiare una macchina No, no, mi piace Ma è piccola, si vede che piccola Ma è piccola Comunque... no Ah, questa da lontano mi sembra carina I calzini sono troppi Anche io ho bisogno di dare un paio di calzini Sì Elisa Maino! Ah, questa ci sta Elisa ci sta Elisa ci sta Se vuoi facermi tic-tac insieme Inizia un po' la tic-tac No, basta che... no, che ricorda Elisa Questa è già pronta Questa è un po' la tic-tac 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 Non mi piace Si può fare un po' la tic-tac Questa è un po' la tic-tac Questa è un po' la tic-tac Questa è una il po' la tic-tac Ma che questo non è male Ma non so neanche ballare Non so come si fa sto ballo Non si fa come si fa ballo E guarda Una cosa per me che non la dico Eita Vabbè Io direi che per questo video può finire qui Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like Tivate la campanina, condividete il canale con tutti i vostri amici Mi raccomando Da me e da mia sorella Vi salutiamo Bella ragazzi Ciao Ciao